Beh ragazzi, ci siamo i Grananas e siamo tornati con un nuovo video E oggi è un vlog, un vlog molto random perché come vi siete accorti oggi vi siete svegliati Ed è, magicamente, 2015, è capito un anno Incredibile Quindi, un anno fa, facciamo il Rottodifon One Quest'anno, facciamo il Rottodifon One Questo, no, questo è il primo video dell'anno che è nostro E quindi ci teniamo parecchio a questo video che ci teniamo che voi lo guardiate perché È fatto per darvi auguri di buon anno E ragazzi, come avete trascosto il capodanno, state ancora ambriachi Noi, sinceramente, non sappiamo come siamo perché questo qui lo stiamo registrando prima E adesso noi siamo in vacanza con gli amici a festeggiare il capodanno Però, ragazzi, non temete perché vi abbiamo programmato tutti i video In modo che abbiate sempre due video al giorno Fino a quando non torniamo, ovviamente, poi ci rimetteremo a fare video Perciò, ragazzi, nel 2015 succederanno tante cose belle E noi proveremo a... Esatto, sono inutile, quindi posso fare i percezzi Vai, vai, vai Vai tipo i spezzetti, tipo una striscia notizia No, tipo iene Vabbè, noi quindi, praticamente, cosa ci aspettiamo dal 2015? Spero che sia un anno veramente buono per tutti noi Sia per noi che per voi Speriamo di ampliare il canale Grazie Di arrivare finalmente ai 100.000 iscritti Perché quest'anno, ragazzi, è l'anno buono Ci speriamo Speriamo bene E noi tenteremo di ripagarvi portando sempre due video al giorno Anche se sarà molto dura perché adesso... Lui, cazzi... Lui comincerà a lavorare Io lavoro, quindi... Già prima era difficile Adesso è ancora più difficile Ma noi ci proviamo, insomma Quindi apprezzate l'impegno Apprezzate l'impegno Mi raccomando E se non riusciamo a fare un rotto di show one con tre partite È perché, purtroppo, se dobbiamo fare un rotto di show one al giorno Non ce la facciamo a fare tre partite insieme Non c'è proprio il tempo materiale per fare tre partite insieme Altrimenti dovreste avere un rotto di show one a settimana Non so quanto vi converrebbe Forse è meglio avere un video al giorno Ma almeno vede pure più partita, no? Perché sennò verreste solo tanti i gol Poi, tra l'altro, sono quelli che vanno meglio Rottodivision Quindi non capisco perché dovreste... Esatto Dovremmo cambiare il... Poi, che altro dirvi, ragazzi? Niente, a parte farvi gli auguri Io ho detto tutto quello che ho da dirvi Auguri di buon anno Tu, se cosa vuoi dire di qualcosa? Vi auguro tanti soldi Tanta felicità Tanto successo Le solite cose che dicono al capodanno Ci impegneremo a fare di tutto E che cazzo ne so Abbiamo detto tutto Sente, quest'anno, ragazzi, speriamo di trovarci in tutte le fiere Perché dovremmo esserci, teoricamente, a tutte le fiere di quest'anno Sempre che ci invitino oppure che riusciamo a partecipare Insomma, perché mancano i moni Se ci invitano veniamo sicuramente Perché ovviamente non dobbiamo pagare Ma se non ci invitano Cerchiamo comunque di esserci Vedendo di riuscire a risparmiare qualche soldo Comunque, cosa vedrete quest'anno? Nuovo anno Insieme a noi Nuovi video Ci saremo, tranquilli Nuovi video Nuovi idee Praticamente Nuovi idee Ci saranno tante altre serie carine Che potreste vedere Sia sul canale nostro Che su altri canali Che non vi spoileriamo Perché ovviamente Se lo vogliono dire gli altri canali Lo dicono loro Insomma, lo annunciano Se ci saranno delle serie Quindi noi non diciamo niente Però vi possiamo dire che noi Potremmo fare per esempio Una serie su Minecraft Con qualcuno Quindi consigliateci con chi vorreste vederla Se vi facce l'idea Magari è infattibile Non ci dite tipo che ne so Stepni Che secondo me Ho su Real Power Che non penso che ci si inculeranno mai Detto troppo Tra virgolette Anche se ci piacerebbe moltissimo Fare una serie con loro Però dice magari con qualcuno Che sia fattibile Che possiamo fare Che comunque conosciamo E che sapete che possiamo farcela Insomma Yes E niente Cosa altro dirvi Ancora tanti Vuoi 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 Mi auguri Mi auguri Incai Tanti auguri Capodanno Perché oggi appunto E' capodanno E niente Se ti beccamo A Befana Che vi facciamo altri auguri Sì Così Random Espetta A Befana Ragazzi Ragazzi 14 gennaio Mi compleanno Quindi vorrei Tanti regali Ciao Sotto ce la speriamo Quindi ragazzi Primo gennaio 2015 15 sembra ieri quando era il primo gennaio 2014 il primo gennaio, sembra ieri quando era 2014 no, sembra ieri no, no, va bene, è esattamente tristica, infatti sono battute che sembrano ieri, insomma quelle che facevano nel 2014 comunque, vai bene così noi ci vediamo al prossimo video e bella ragazzi bella, bella ancora buon anno buon anno bella 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 bella